Ieri conferenza d'inizio anno delle consiglie regionali su quanto avvenuto nel 2023, sulle prospettive per il 2024, assente Andrea Biancani, assente ma non consenziente a questa assenza? Devo dire che ieri il Presidente Latini del Consiglio regionale ha deciso di convocare questa conferenza stampa per dare i numeri di quello che è stato il lavoro fatto nel corso del 2023 in particolare e per anche parlare di quello che sarà l'attività del 2024. Devo dire che io, ma che sono Vice Presidente del Consiglio regionale, ma anche la consigliera Vitti, la consigliera segretaria, ci siamo rimasti male, nel senso che è stata una scorrettezza istituzionale, è stato sbagliato non coinvolgere anche chi rappresenta l'opposizione all'interno dell'ufficio di presidenza e quindi abbiamo voluto testimoniare questa nostra contrarietà. Noi in questi anni abbiamo sempre cercato di essere costruttivi, abbiamo fatto proposte a favore di quello che è l'interesse pubblico di tutti i cittadini e andare a fare questa presentazione dell'attività svolta senza coinvolgerci è completamente sbagliato. Do alcuni numeri che sono stati dati, non sono stati dati secondo me neanche i numeri in maniera precisa, nel senso che su 43 sedute del Consiglio regionale 27 sono le leggi che sono state approvate. Ovviamente dal nostro punto di vista sono poche, questo significa che ci sono tantissime leggi che purtroppo ancora sono ferme in commissione. Parliamo di 126 proposte di legge ferme in commissione, una buona parte presentate dall'opposizione, noi invece vogliamo dire e ricordare che è importante che le commissioni licenzino, cioè facciano in modo che anche le proposte di legge presentate dall'opposizione possano arrivare in Consiglio regionale. Sono proposte costruttive, propositive e quindi tra i numeri andavano dati anche questi, un'opposizione che lavora, un'opposizione che ha presentato anche tantissime emozioni. Attualmente oltre ad esserci 126 proposte di legge ferme ci sono anche 122 emozioni che non vengono discusse. Il problema è anche legato alla durata del Consiglio regionale, purtroppo il Consiglio regionale che viene fatto praticamente quasi ogni martedì, incomincia verso le 11 del mattino e termina verso le 14.30-15, secondo noi deve durare di più anche per dare la possibilità di poter fare un dibattito più lungo e di poter anche discutere le tante emozioni che sono rimaste ferme. Quindi un errore da parte del Presidente, noi siamo comunque disponibili a collaborare ma riteniamo che il Consiglio regionale debba durare di più per poter discutere tutte le norme e tutte le proposte che noi abbiamo fatto ma anche che le commissioni licenzino non solo le proposte di legge della maggioranza ma anche quelle dell'opposizione che sono molto spesso molto importanti nell'interesse pubblico. Grazie. 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 Grazie.